Ehi la ciurma, io sono Mazzetess e benvenuti in questo video di celebrazione dei 300 iscritti e di caccia al tesoro per la nuova serie. Già spoiler, è un contest che sarà una caccia al tesoro, avrete tra poco il primo indizio alla fine di questo video che vi manderà un altro indizio che vi manderà un altro indizio che vi manderà la soluzione. Voi dovete capire di volta in volta, in base agli indizi, qual è il video in cui troverete l'indizio successivo. Avrete due settimane di tempo a partire da questo momento, quindi dalla data che c'è qui sotto al video, fa fede quella data là, per arrivare alla soluzione e quindi per completare la caccia al tesoro. Tra tutti quelli che arriveranno alla fine della caccia al tesoro ne verrà sorteggiato uno che vincerà una key offerta dalla Egosoft di X3 Terran Warpac che è sia X3 Terran Conflict che X3 Albion Prelude. Infatti la nuova serie sarà appunto su X3 Terran Conflict grazie appunto anche alla Egosoft che ha fornito una key per la serie e una key per gli iscritti. Ed è un simulatore spaziale molto bello, molto profondo che avremo la possibilità di scoprire insieme tra un paio di settimane a sostituzione della serie di spore. Io quindi auguro una buona fortuna a tutti per questa caccia al tesoro, spero che sarete invarii a partecipare perché ci ho lavorato un po' deve essere davvero divertente, spero che vi divertiate. Ciao, tra poco ci sarà il prossimo indizio. Pronti e attenti? Via! Grazie a tutti! Grazie a tutti! Grazie a tutti! Grazie a tutti!